Augusta, i carabinieri grazie al loro intuito fermano una coppia con oltre mezzo chilo di droga. L'intuito è una probabile arma a disposizione dei carabinieri del comando compagnia carabinieri di Augusta, agli ordini del capitano Rossella Capuana che supera le apparenze, percepisce ciò che non è tangibile, lo utilizza per indicargli la direzione giusta per scovare delinquenti e in questo caso spaccio di sostanze stupefacenti. Continua senza sosta l'intensificazione dei controlli mirati a contrastare reati di natura predatoria e quelli legati all'attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal comando compagnia carabinieri di Augusta, specie in prossimità di zone generalmente frequentate da giovani o gruppi della cosiddetta movida nel periodo d'estivo. I carabinieri dell'aliquota radio mobile hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una coppia di conviventi, entrambi catanesi residenti in una baia del litorale augustano. Nello specifico i carabinieri che perlustravano la zona balneare notavano gli occupanti di una motovettura agitarsi sottoponendole così a un controllo che si è esteso a una perquisizione veicolare e domiciliare rinvenendo abilmente occultati 513 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marivana che veniva sottoposto a sequestro. La coppia di conviventi al termine delle operazioni di diritto veniva dichiarata in stato di arresto e a soddisposizione del PM di turno presso la Procura di Siracusa accompagnata presso la propria abitazione per arrestarvi in regime di arresti domiciliari.